Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Allora, Corrado, la domanda è una. Se io vengo qua e parlo di pace, sono un illuso, sono un utopista, sono un povero deficiente addirittura? Allora, 2001. Gli Stati Uniti in America hanno appena subito l'attacco terribile delle Torri Gemelle. 2.977 morti, 6.000 feriti. Ed è in quel momento che l'America si prepara a una grande guerra contro l'orrore in nome della civiltà. Esce un articolo, un famoso articolo, un articolo di Oriana Fallaci, dove la Fallaci dice proprio questo. Dice è giusto che la civiltà, in nome dei propri valori, risponda all'orrore, risponda al terrorismo. Dobbiamo stroncare con la violenza. Ed ecco, a queste parole della Fallaci risponde Tiziano Terzani. Risponde Terzani con una lettera bellissima in cui Terzani si pone un'ulteriore domanda, una domanda che io oggi voglio porre anche qua. La domanda che pone Terzani è questa. Oriana, in nome di che cosa noi dovremmo distruggere il terrore? In nome della civiltà, dici tu, che cos'è la civiltà? La civiltà è esattamente non rispondere alla violenza con la violenza. La civiltà è esattamente la negazione della vendetta. Caino, nell'Antico Testamento, uccide Abele, ma Dio dice nessuno deve toccare Caino. Anzi, lo fa fuggire lontano, lo manda in esilio e dice chiunque alzerà un solo dito contro Caino verrà punito. Caino se ne andrà lontano, creerà una nuova città, avrà una discendenza. Nel mito greco c'erano le irinni, erano le entità che personificavano il sangue, la vendetta. Ebbene, nell'Antico Mito Greco noi assistiamo al fatto che grazie alla dea della ragione, Atena, le irinni vengono sostituite con nuove entità che non reclamano il sangue ma il dialogo, il logos. Con il male si deve dialogare. Tu mi dirai, è impossibile, con il male non si può dialogare. Con chi sgozza i bambini, con chi fa il terrore, con chi fa terrorismo, è impossibile ogni dialogo. E invece no. 1219, è in corso la Quinta Crociata. La Crociata contro gli infedeli, contro i musulmani, contro il sultano, che venne rappresentato come il nemico personificato, come l'anticristo addirittura. Ci sono cadaveri ovunque, morti ovunque, San Francesco d'Assisi decide che lui vuole andare a parlare direttamente con il sultano. Gli dicono sei pazzo, come fai? Il sultano a parte che non ti riceverà mai, ma anche se lo facesse ti farebbe decapitare dopo un momento. Il sultano è il terrore, il sultano è l'anticiviltà. Tu sei un uomo dei nostri, dell'Occidente, della Chiesa. Ma San Francesco d'Assisi decide di andarci comunque. Si presenta là a Damietta, in Egitto, anno 1219, si fa prendere prigioniero perché vuole andare a parlare col sultano. E ci va. E davanti agli sguardi interdetti di tutti quanti sapete cosa accade? Accade che San Francesco d'Assisi rimane per 15 minuti a dialogo cordialissimo con il sultano. Si scambiano idee, opinioni e addirittura quando viene liberato San Francesco d'Assisi riceve dal sultano alcuni doni. Come dire che la violenza che risponde alla violenza non è mai l'unica via possibile. Ci viene detto che è l'unica via possibile, ma non lo è affatto. La violenza che risponde alla violenza è l'anticiviltà. La civiltà è il dialogo. Sempre, sempre, sempre e comunque.